Per trovare a questa nuova edizione del nostro telegiornale vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. Una donna non arriva ad Avezzano ed è stata costretta a partorire a Sulmona in 20 minuti. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Il parto era stato programmato all'ospedale di Avezzano. Lì una sulmonese aveva scelto ridare alla luce suo bambino. Vuoi per scelta, magari per il rapporto che la lega con il ginecologo di fiducia, vuoi per lo stato di confusione che la politica sta generando intorno al punto nascita Peligno. Ma non tutte le ciambelle riescono col buco, come pure non tutti i parti programmati seguono un'iter naturale. Fatto sta che per la donna si è reso necessario il ricovero presso l'ospedale di Sulmona. Avvertiva dei dolori che per lei erano delle strane avvisaglie preparto da non trascurare assolutamente e da tenere sotto controllo. E tutte le preoccupazioni si sono rilevate fondate. Dei dolori al parto precipitoso è stato un attimo, venti minuti contati di orologio ed ecco che la donna ha partorito a Sulmona. Quasi costretta, si fa per dire, dai dolori e dal fuori programma che fortunatamente è stato affrontato nei migliori dei modi dallo staff del reparto di ostetricia e ginecologia. L'episodio risale ai giorni scorsi ma quello che salta all'occhio è che in una sola settimana si sono verificati due parti precipitosi, uno dietro l'altro, risolti nel punto nascita cittadino. L'altro caso, balzato agli onori delle cronache, riguarda la nascita di Cristian in un ambulatorio dal momento che la madre, alla sua seconda gravidanza all'ospedale dell'Annunziata, non ha fatto a tempo a scendere in sala parto dopo la rottura delle acque. Insomma, il discorso è sempre lo stesso. Serve una decisione definitiva che magari passa per la revisione dell'accordo Stato-Regioni con il governo che deve dar seguito a quanto annunciato. Come pure la regione che si sta per insediare dovrà recitare il suo ruolo. Perché il dato che emerge senza timore di smentita è che c'è chi continua ancora a partorire fuori sul Mona, per scelta o per altro. E questo deve spingere a una riflessione gli addetti lavori e non solo. Perché fin quando non si mette nero su bianco il mantenimento del reparto resta sempre un clima di incertezza che non risponda alla realtà dei fatti, vale a dire a un reparto pronto e organizzato. In alto sangro sono state tagliate le gomme all'auto di un assistente sociale. L'ordine rilancia l'allarme. Sentiamo nel servizio. Il fenomeno delle aggressioni, sempre più diffuso anche a livello locale, richiede necessariamente un impegno da parte di tutte le istituzioni affinché vengano implementate almeno le misure minime atti a garantire la reale sicurezza e la tutela degli operatori e il grido di dolore che arriva dall'ordine regionale delle assistenti sociali all'indomani dell'ennesimo episodio di intimidazione ai danni delle assistenti sociali. Ieri un dipendente del servizio sociale dell'alto sangro ha denunciato l'episodio delle gomme squartate alla sua auto. Chi svolge tale tipo di lavoro infatti è spesso a contatto con persone con problemi in inserimento sociale, spesso con casi di violenza in famiglia, tossicodipendenza e indigenza ai limiti della dignità umana. Per l'ordine occorre quindi che ci sia un'adeguata risposta da parte delle istituzioni anche con un reale rafforzamento dei servizi sociali, ovvero che venga rispettato il parametro stabilito per legge della presenza di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e in Abruzzo siamo ben lontani da questo numero per evitare che la rabbia delle persone che vivono situazioni di profondo disagio socioambientale si riversi sui professionisti del sociale. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale delle Assistenti Sociali ha realizzato nel 2017 un importante studio sul fenomeno dell'aggressività a danno delle assistenti sociali dal quale risulta che il 15,4% dei professionisti intervistati su un totale di 20.000 assistenti sociali, quasi la mità degli iscritti, ha subito nel corso della propria attività lavorativa un'aggressione fisica e ben l'88,2% ha subito violenza verbale. Forza Nuova vuole urlare a gran voce che ancora ad oggi purtroppo le istituzioni per Alessio Feniello non stanno cercando in alcun modo di risolvere l'incresciosa situazione, anzi la magistratura avrebbe potuto tranquillamente archiviare la sua posizione mentre invece il monito è stato che la magistratura preferisce investire tempo e denaro dei contribuenti per affrontare un processo del tutto insensato e portare in aula di tribunale Alessio Feniello, padre di Stefano tragicamente scomparso nella tragedia dell'hotel Rigopiano. è quanto si legge in una nota di Forza Nuova. Forza Nuova prosegue la nota, fa sapere che questa volta la vicenda non verrà dimenticata in alcun modo e che se il giorno del processo Alessio Feniello verrà condannato al carcere, allora in carcere dovranno mettere tutti i cittadini che saranno in tribunale con Alessio che da oggi, qualsiasi azione verbale scritta che Alessio Feniello deciderà di adottare sarà cura di Forza Nuova di farsene carico perché ad attaccare persone indifese e sole siamo tutti capaci, questa volta però dovrete attaccare tutti i cittadini, conclude la nota che saranno al fianco di Alessio ed il popolo che deciderà di sostenere questa causa. Lasciamo dunque questo intervento di Forza Nuova in merito a questa vicenda riguardante la tragedia dell'hotel di Rigopiano. Adesso torniamo a Sulmona. Ovidio, dimenticato, la parlamentare Stefania Pezzopane deposita un'interrogazione. Sentiamo nel servizio di Andrea Daurelio. Un'interrogazione parlamentare perché occorre assolutamente impedire il rischio di far saltare una manifestazione così rilevante anche a livello internazionale a duemila anni dalla scomparsa del grande poeta latino. È l'iniziativa che sta mettendo in campo l'onorevole PD Stefania Pezzopane a proposito delle celebrazioni del bimilenario di Ovidiano, ormai concluse. Il via libera per il comitato, come pure la proroga, è arrivato dal governo pentaleghista che ha ereditato la legge approvata solo a dicembre 2017, ma ora la Pezzopane sollecita l'esecutivo a insediare il comitato. Ormai da nove mesi siamo in attesa che il governo Movimento 5 Stelle e Lega nomini attivi il comitato per le celebrazioni del bimilenario di Ovidio, fa notare la deputata PD. Neanche l'intervento dello scorso settembre dei rappresentanti di tutti gli enti locali coinvolti, provincia e comune di Sulmona, ma anche regione Abruzzo, è riuscito a smuovere il ministro della Cultura e il sottosegretario Vacca, l'unico componente abruzzese dell'intera compagine governativa. Se la commissione prevista dalla legge starà composta, perché non viene insediata? Si chiede Pezzopane. Come avevo proposto a settembre, si sono infatti prorogati termini, ma se si procede così trascorrerà inutilmente anche il tempo della proroga. La legge per queste celebrazioni era stata approvata con un voto bipartisan sul finire della scorsa legislatura e il ministro Franceschini, per garbo istituzionale, aveva lasciato la nomina dei componenti, la commissione, al nuovo governo, eppure siamo ancora al nulla di fatto. Su questo presenterò un'interrogazione. Qualcuno al governo ha paura di Ovidio? Forse le sue parole nobili e di straordinaria attualità, Empio è colui che non accoglie lo straniero, rischierebbero di spingere questa maggioranza a troppo profonde riflessioni culturali? Conclude Pezzopane con un pizzico di provocazione. Il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Artigian Cassa, Intercredit, Credit Fidi e Fidi Imprese Abruzzo ad essersi aggiudicato il servizio per l'attuazione del fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese abruzzesi, attivato dalla regione presso la Fira, la finanziaria regionale, il cui capitale è interamente detenuto dalla regione stessa. Si tratta di uno strumento con una dotazione finanziaria di oltre 13 milioni e 100 mila euro a valere sui fondi del FESR 2014-2020, istituito per sostenere e stimolare la ripresa del tessuto economico del territorio. L'accordo che rende operativa la misurazione è stato sottoscritto questa mattina a Pescara dal Presidente della Fira Alessandro Felizi e dal Direttore Generale di Artigian Cassa Francesco Simone. Obiettivo dell'intesa è favorire l'accesso al credito delle imprese, soprattutto delle aziende in maggiori difficoltà, contribuendo al miglioramento del rapporto delle stesse con le banche e all'incremento della competitività del tessuto economico locale sui mercati anche esteri. L'intervento di garanzia potrà essere richiesto su finanziamenti a breve e medio termine, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento al sostegno dello start-up di imprese innovativo e ad alto potenziale di crescita alla concessione di garanzie ad aziende in crisi di liquidità per il capitale circolante, vale a dire per i costi di gestione, nell'ambito di programmi di sviluppo. Si stima che il fondo genererà linee di credito per complessivi 65 milioni di euro, andando a finanziare ben 230 progetti. Il nono reggimento alpini dell'Aquila all'esercitazione delle squadre di soccorso dell'esercito Lupo Bianco 2019 che si è svolto a San Candido nella provincia di Bolzano. Circa un centinaio di alpini selezionati tra i migliori sciatori dei diversi reggimenti tra i quali il nono reggimento alpini dell'Aquila in possesso della qualifica BLS che quindi sono in grado di fornire il primo soccorso agli infortunati anche mediante l'utilizzo se necessario del defibrillatore. Sono stati protagonisti di questa iniziativa. I militari impiegati in questo particolare servizio hanno svolto appositi corsi di perfezionamento sciistico e di pronto soccorso in ambiente innevato. Fondamentale la figura dei soccoritori che oltre a possedere elevate capacità sciistiche hanno superato un corso selettivo presso il centro addestramento alpini di Aosta durante il quale hanno appreso le tecniche di soccorso sanitario e di movimentazione degli infortunati. In questo contesto hanno frequentato anche corsi sull'uso degli apparati defibrillatori e hanno ottenuto l'abilitazione alla guida delle motoslitte. Dunque tutto ciò si è svolto a San Candido in provincia di Bolzano come documentano queste immagini e tra i protagonisti di questa esercitazione, ricordiamo esercitazione delle squadre di soccorso dell'esercito Lupo Bianco 2019, ha partecipato anche il nono reggimento alpini dell'Aquila. Adesso la politica sulmonese con la crisi a Palazzo San Francesco. Il sindaco arriva proprio adesso la notizia, il sindaco Anna Maria Casini azzera la giunta comunale e avvia le consultazioni. Nell'incontro di questa mattina con i consiglieri comunali il sindaco ha provocato i consiglieri se non si trova la quadra dimettetevi voi e quanto ha dichiarato il primo cittadino di Sulmona che ascoltiamo nell'intervista. Da questa mattina la giunta comunale di Palazzo San Francesco è azzerata, avvia le trattative per la costituzione di un nuovo esecutivo comunale se ci saranno le condizioni, dice il sindaco Anna Maria Casini, non di salute pubblica, non tecnico ma di responsabilità. Sindaco che cosa hai in mente? Adesso dobbiamo verificare prima di tutto se esistono delle convergenze a lavorare su un programma, un'attività dove ci siano delle convergenze reali di portare avanti un progetto per la città. Su questo poi ragionerò su delle ipotesi che possano sostenere da un punto di vista tecnico questo tipo di progetto. Certo è che questa è una difficile prova che dobbiamo assolutamente portare a termine nel giro di pochissimo tempo perché il 24 scadono il termine fadidico per consentire eventualmente in caso di non raggiungimento di questo obiettivo responsabilmente da parte dell'assise dei consiglieri comunali di sottoscrivere delle dimissioni congiunte e quindi consentire il voto tra due mesi perché altrimenti portare avanti in maniera con una sorta di accanamento terapeutico un'amministrazione che non ha più la maggioranza per la fuoriuscita dei consiglieri di avanti sul Mona significherebbe far cadere l'amministrazione al primo momento utile immagino al bilancio e quindi condannare sul Mona a 15 mesi di commissariamento che sarebbero devastanti e francamente anche inspiegabili se non per tatticismi elettorali che ovviamente a me personalmente non interessano. Quello che mi interessa invece è fare tutto il possibile per non interrompere questa consigliatura per consentire di arrivare a fine mandato per il tempo fisiologico perché un'amministrazione possa produrre dei risultati. Noi abbiamo già lavorato molto, abbiamo cantierato tante situazioni, abbiamo già all'attivo diverse cose fatte, ne abbiamo tante in corso di realizzazione, ci piacerebbe che sul Mona potesse avere merita un governo stabile perché solo così può portare avanti un'attività può serenamente assumersi la responsabilità e assumere delle decisioni altrimenti io sono la prima a voler chiudere questa esperienza per garantire una continuità nel giro di pochi mesi attraverso la nomina di un nuovo sindaco e una nuova amministrazione. Per il risvolto negativo la chiusura dell'esperienza lei ha lanciato una sfida provocazione, o in questi due giorni di fuoco si trova una soluzione o dimettetevi voi? Assolutamente sì, io sono qui e sto cercando di portare avanti comunque il mio impegno con la città, interrompere un'amministrazione significa che un numero congruo di consiglieri, almeno 9, firmino le dimissioni contestuali e quindi producano così lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. Questo entro il 24 consentirebbe di poter votare, quindi di poter partecipare con una nuova elezione alla costituzione di un nuovo consiglio nel giro di pochissimo tempo. Non sarebbe una vittoria questa francamente ma è sicuramente il male minore rispetto invece a voler portare avanti in maniera irresponsabile un progetto con questa situazione di instabilità, perché questa è la verità, questa è la realtà, e quindi non poter governare di fatto, non poter svolgere il ruolo che un sindaco e un'amministrazione deve svolgere con un consiglio non pienamente funzionante e quindi cadere al primo momento utile di un provvedimento non votato, probabilmente tra un mese, quando ci sarà il bilancio, e quindi consegnare la città non a due mesi ma a 15 mesi di commissaria. Bene, questa è la situazione politica attuale, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, voltiamo pagina da lunedì 25 febbraio a sabato 2 marzo nell'ambito del progetto La memoria e il viaggio, organizzato dall'Istituto Abruzzese per la storia delle resistenze dell'Italia contemporanea. 200 studenti e docenti delle scuole superiori di L'Aquila, Chieti, Sulmona, Prato, La Peligna, Avezzano, si regheranno a visitare alcuni tra i luoghi più significativi legati all'interonamento e allo sterminio di militari di persone, di milioni, chiedo scusa, di persone, nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I partecipanti hanno seguito prima un corso di preparazione con esperti. Le soste previste in questo viaggio che faranno studenti e docenti delle scuole superiori, ripetiamo, di L'Aquila, Chieti, Sulmona, Prato, L'Avezzano, Le soste previste sono il Museo Ebraico di Bologna, poi Weimar, capitale della Germania dopo la Prima Guerra Mondiale, il Lager di Buchenwald con il sottocampo di Dora a Mittenbau e poi Monaco di Baviera dove ci furono i primi inizi del nazismo. Norimberga, sede delle grandi adunate naziste del processo ai criminali di guerra, Salisburgo, Mauthausen, tristemente nota per lo sterminio, per sfinimento da lavoro come testimoniato dalla scala della morte. E adesso sentiamo quali sono le notizie e gli aggiornamenti dall'Aquila. Ci colleghiamo con ilcapoluogo.it, rientro in studio, parleremo di sport. Buongiorno, ben trovati dalla redazione del Capoluogo. Partiamo subito con le notizie del 22 febbraio 2019 mentre scorrono le immagini della pausa caffè del nostro direttore Roberta Galeotti con Giorgio Fedele, consigliere regionale, neoeletto in quota, Movimento 5 Stelle. E passiamo subito alle onde gravitazionali e ad una buona notizia anche alla ricercatrice del GSSI e dell'INFN, Marika Branchesi, nello studio che ha fotografato il getto relativistico prodotto dalla sorgente GW170817. I risultati dello studio di un team internazionale coordinato da Giancarlo Ghirlanda, primo ricercatore dell'INF, sono stati pubblicati sulla rivista Science. Ci sono voluti 33 radiotelescopi distribuiti in 5 continenti dall'Australia agli Stati Uniti passando per Asia, Europa e Sudafrica e 36 astronomi di 11 nazioni per misurare le dimensioni della sorgente. La prima di onde gravitazionali rilevate dagli interferometri LIGO e VIRGO osservata anche nella sua componente elettromagnetica da decine di telescopi a più di un anno dalla sua scoperta. Passiamo dunque alla politica giunta della Regione d'Abruzzo. Forza Italia non partecipa alla riunione dei partiti di centrodestra che non hanno accettato che il coordinatore Nazario Pagano trattasse anche per il sereggio della delega di CESA. Da qui l'abbandono della riunione e le ipotesi di ripartizione formulate da Lega, Fratelli d'Italia e Azione Politica che andranno al tavolo nazionale. Intanto Pagano si dice sicuro che la vicenda si chiuderà nel migliore dei modi. È normale che un gruppo formato da tre consiglieri regionali, senza contare quello dell'Udc, abbia uguale rappresentanza in giunta di Azione Politica che ne ha preso uno o di Fratelli d'Italia che ne ha due, ma che tra l'altro ha già il Presidente della Regione che vale tre assessorati. Se vogliamo far partire questa legislatura basta solo un pizzico di buonsenso, dice Pagano. Nei guai un birrificio nell'Aquilano, sospesa l'attività dopo l'intervento dei NAS di Pescara. Questa mattina i carabinieri, a conclusione di un'attività ispettiva condotta con la collaborazione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Pescara, ha segnalato una persona all'autorità amministrativa e sanitaria. L'uomo, in qualità di legale responsabile di un birrificio nell'Aquilano, è accusato di aver mantenuto i locali dell'opificio con inadeguatezze igienico-sanitarie, strutturali e gestionali, e omesso di notificare all'autorità competente l'attività di birrificio ai fini della registrazione, omesso di attivare le procedure aziendali di tracciabilità e rintracciabilità, e indicato erroneamente dei dati obbligatori su 400.500 bottiglie di birra prodotte. Ci spostiamo al Comune dell'Aquila. Luigi D'Eramo chiede un vertice di maggioranza per chiarire i rapporti nella coalizione. La Lega vuole dettare i tempi della ricomposizione della Giunta e il deputato aquilano Luigi D'Eramo chiede un vertice di maggioranza per chiarire tra i partiti quali siano i reali equilibri che si sono strutturati all'indomani delle elezioni regionali. Non possiamo ormai più rimandare, scrive D'Eramo, urge fare chiarezza in termini politici su quali siano realmente i gruppi consigliari all'indomani delle elezioni regionali. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a innumerevoli trasmigrazioni tra movimenti civici e partiti politici e noi della Lega non intendiamo far passare un giorno in più senza chiarire con i gruppi consigliari quali siano le reali espressioni dei partiti, chi li rappresenta e quali assessori sono il loro riferimento in Giunta. E chiudiamo con il meteo. Venerdì all'Aquila, tempo asciutto al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. E nuvolosità in aumento al pomeriggio, ma senza fenomeni associati. Stabile anche in serata e in nottata, con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra 2 e 13 gradi. In Abruzzo, al mattino, tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nuvolosità in aumento al pomeriggio, con locali piogge sulle coste e stabili altrove. Tra la sera e la notte, piogge sparse con neve, sui rilievi oltre i 1200-1300 metri. E per oggi e anche per la settimana è tutto dalla redazione del Capoluogo che vi dà appuntamento a lunedì con le notizie del giorno. Noi rientriamo parlando di sport per occuparci di calcio a 5 perché il Sulmona Futsal nel campionato di Serie C2 domani affronterà il match interno contro la Sportmania, calcio d'inizio alle 15 al Palazzetto dello Sport Nicola Serafini, località incoronata. Si tratta di uno scontro diretto da vincere per i Biancorossi. presentiamo il match nel nostro servizio. Entra nella fase decisiva il campionato di Serie C2 di calcio a 5 dove tutte le squadre devono prestare attenzione a non commettere passi falsi che possono favorire le avversarie. Determinanti diventano gli scontri diretti come quello in programma domani al Palasporte dell'incoronata tra Sulmona Futsal e Sportamania di Castelnuovo per la sesta di ritorno del Girone A. Entrambe sono separate soltanto da due punti, con i Sulmonesi in terza posizione a meno 4 dalla vetta. Obiettivo vittoria per i Biancorossi che vogliono rimanere agganciati al treno delle prime. Il turno dello scorso sabato è stato positivo sia per i Peligni che per i Terramani. Il Sulmona, con il successo a Celano, non perde le possibilità di lottare per il primato, mentre la Sportamania, impostasi contro il fanalino di Codavalle del Vomano, ha riconquistato un posto nei play-off. Si prevede un match molto combattuto che la squadra del presidente Cicerone giocherà anche per cancellare la partita dell'andata che, oltre alla sconfitta, fece registrare il grave infortunio di Alessandro Ruscitti. Fu una giornata nera per il Sulmona Futsal con la Sportamania che balzò in testa, scavalcando la Nobel Boys. Ora invece la classifica vede al primo posto gli Avezzanesi della Fenice a 35 punti e in zona play-off Nobel Boys a 33, Sulmona Futsal a 31, Dinamo Faras a 30, Sportamania e Calcetto Avezzano a 29. Sarà una bella lotta sino al termine? Chi dovrà indurre domani Sulmonesi ad ottenere i tre punti per riscattarsi anche dopo il passo falso nel precedente scontro diretto con la Nobel Boys? Negli ospiti da tenere d'occhio il pivò Vincenzo Damario, capocannoniere del Girone con 28 reti, insieme all'oiacono della Dinamo Faras. Il tecnico dei locali, Benjamin Fonte, spera di recuperare Crasnici che in settimana non si è allenato per un mal di schiena. Sulmona Futsal la Sportamania sarà arbitrata da Stefano Passarelli di Chieti. Calcio d'inizio alle 15 al Palazzetto dello Sport Nicola Serafini. Bene, rientriamo dopo lo sport, dopo il calcio a 5. Prima di concludere arriva proprio in questo momento un aggiornamento a Coltella, compagna per strada ed è stato arrestato. L'episodio è avvenuto nel Terramano, quindi tra un po' daremo anche qualche dettaglio su questa notizia. Ha fermato la sua compagna per strada e l'ha aggredita, ferendola con tre coltellate all'addome e al torace. Poi è risalito in auto e si è allontanato per fermarsi poco oltre e ferirsi al collo con la stessa arma. E' accaduto questa mattina sul lungomare di Tortoreto. L'uomo, un 34enne dalla provincia di Teramo, è stato fermato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di tentativo di omicidio e violenza privata. Dopo la medicazione è stato rinchiuso nel carcere Terramano di Castrogno a disposizione del PM Enrica Medori. La donna, 39enne, colpita ad un fianco sul lato destro del torace al ventre, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita d'urgenza all'ospedale di Teramo per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. E' improgno si è riservata. Gli investigatori hanno sequestrato il coltello usato per l'aggressione con lama di 22 centimetri e le auto di entrambi. Bene, lasciamo quest'aggiornamento di cronaca. Adesso, come al solito, prima di concludere, possiamo vedere la programmazione cinematografica per quanto riguarda le due sale, le due strutture cinematografiche del centro Abruzzo, vale a dire la multisala IJOLAND di Corfinio e il cinema pacifico di Sulmona per quanto riguarda IJOLAND. La multisala IJOLAND di Corfinio, dunque vediamo quali sono i film in programmazione. Green Book con orari di proiezione 18 e 21 e 10, modalità aereo alle 18 e 10 e 21 e 10, The Lego Movie 2 è solo alle 18 e 10, l'apparanza dei bambini in proiezione alle 21 e 10. Questo per quanto riguarda la multisala IJOLAND di Corfinio. Passiamo adesso alla programmazione del cinema pacifico di Sulmona. Al Pacifico abbiamo il film Maria Regina di Scozia con orari di proiezione 18 e 30 e 20 e 45. È tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale, grazie della cortesa attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Buona giornata. Sulla nostra regione condizioni di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti. Tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità, inizialmente senza fenomeni di rilievo, mentre dalla serata sono attesi attenzamenti consistenti sul settore orientale e costiero, dove non si escludono rovesci. Temperature stazionarie, ma poi si avrà un generale sensibile calo a partire da stasera. Venti deboli di direzione variabile orientali, dal tardo pomeriggio e nelle ore serali tenderanno a provenire nei quadranti nord-orientali rinforzando. Mare quasi calmo, poco mosso, ma la tendenza è verso un rapido aumento del motoroso da stasera. Mare quasi calmo, più calmo, più calmo, più calmo, più calmo, più calmo. Mare quasi calmo.